Il più bel Teramo, il più bel Rimini, la partita più bella dell'anno. Nonostante un terreno di gioco impossibile e ai limiti della praticabilità, il big match della quattordicesima giornata ha fornito un paio di risposte importanti al campionato. La prima che il Teramo e Rimini sono le squadre migliori del torneo, la seconda che anche in Serie D si possono vedere delle belle partite, ma soprattutto una terza. Il Teramo ha dimostrato di fronte alla principale antagonista che è la squadra da battere. Sotto di un gol dopo appena sei minuti i biancorossi hanno dovuto subire un calcio di rigore, ma hanno saputo reagire alla grande dominando in lungo e in largo la partita, chiudendo il Rimini per larga parte della gara nella propria metà campo. Si diceva del rigore in apertura, il sesto quando su un calcio d'angolo di buono punto Gattari trattiene vistosamente per la maglia Aquino e l'arbitro non ci pensa due volte a concedere la massima punizione, la battuta è di Evangelisti che batte Farò. Il gol del vantaggio non mette le ali al Rimini, anzi è il Teramo che reagisce da grande squadra e prende in mano la partita a provarci per primo in casa Teramane e Cerchia che poco prima del quarto d'ora chiama la parata Pazzini. Al ventiquattresimo il Cese vede Farò fuori dai pali e prova a sorprenderlo sbagliando però la mira. Ancora Pazzini protagonista al ventisettesimo per parare un tiro di Di Paolo che comincia a prendere le misure. Il campo comincia a farsi pesante, la palla non cammina più tanto, ne potrebbe approfittare al trentaquattresimo Gambino che viene aiutato in un primo tempo dal terreno di gioco che gli frena la palla ma poi quando deve servire Orta solo davanti alla porta il campo quello che gli ha dato gli toglie. Subito dopo i anni ci prova da appena dentro l'area, Pazzini non trattiene e poi Paolo non riesce a buttarla dentro la posizione defilata. Nonostante il campo la partita resta bellissima, l'ultima occasione del primo tempo è del Rimini con un angolo calciato dai Vangelisti sul quale interviene di testa Aquino ma Farò è pronto. Il Teramo va negli spogliatoi con la consapevolezza di poter recuperare la gara, rischia grosso però subito in avvio di ripresa quando Buonocunto si ritrova tutto solo in area a colpire di testa ma Farò è immenso nel dire di no. Il pericolo corso scuote di nuovo il Teramo che riprende a fare la partita, ci prova Gambino al dodicesimo con la palla che termina alta ma un minuto dopo arriva il gol del Pari. Azione infinita davanti alla porta Romagnola con il pallone che viene calciato dai Teramani, respinto dai Riminesi, ripreso e respinto fino a quando Di Paolo non lo scaraventa in porta. Il boato questa volta è tutto dei quasi 400 Teramani saliti in Romagna. Il pareggio accontenta il Teramo? Assolutamente no, la squadra di Cifaldi una volta addentata la preda non la molla più, anche se al quattordicesimo Cardinale chiama la parata in due tempi l'ottimo Farò. Al ventunesimo i biancorossi sciupano clamorosamente una ripartenza con Gambino che ignora Orta lasciato completamente solo in area. Subito dopo è l'arbitro a fermare Orta lanciato da solo verso la porta avversaria per comandare una punizione a favore del Teramo ignorando completamente la norma del vantaggio. D'Angelo rischia anche Ragazzu e l'ex attaccante del Morro d'Oro al trentasettesimo ha la palla buona per segnare ma la sciupa banalmente con un tentativo di esterno destro che termina a lato. Al quarantaquattresimo il Rimini resta in dieci, Evangelista entra duro su Di Paolo e per il direttore di gara è rosso diretto. E l'ultima emozione della gara, la pioggia resta l'unica protagonista dopo il fischio finale, finisce ironia della sorte come otto anni fa, uno a uno, il campionato allora alla fine lo vinse il Teramo.